buongiorno buon pomeriggio e buon oggi video spesa un po fatto così lo faccio così perché mi hanno portato la spesa nelle scatole invece che nelle borse perciò ho dovuto svuotarle tutte metterle in cima alla tavola perché poi le scatole le ho restituite perciò c'è tutta una montagna di spesa come avete visto nel video copertina in cima alla tavola perciò oggi non mi vedrete voi direte meno male che ce la siamo levati dalle palle se non mi vedete di faccia ma mi sentite di voce ecco vi faccio vedere la spesa e allora allora cominciamo ho comprato ok che così la vedete anche meglio poi dopo ditemi se magari la preferite così il video spesa o perché io vedo tanti video spesa perché mi piacciono vederli però vedo sinceramente che tanti li fanno così video spesa come li sto facendo io adesso ditemi voi se lo preferite così o come lo faccio prima ecco allora perché così si vedono più o meglio i prodotti per quello no allora ho comprato due di questi me coglioni me so costati un rene e il fegato perché porca miseria costano un patrimonio ed erano anche in offerta però l'ho pagati 5 euro e 90 a scatola non costavano 5 90 l'ho pagati 4 e 90 a scatola e sono due filetti di tonno non l'ho mai comprato non l'ho mai cucinato ecco che poi scrivono due porzioni col col cavolo perché sinceramente io nella dieta cioè 200 grammi di di pesce due porzioni vabbè vedremo comunque ho comprato questi che non avevo mai per faccio vedere l'app dove ho comprato anche l'acqua ecco poi ho comprato un chilo di farina bianca poi ho preso la pastina le sorpresine le sorprese qua poi vediamo perché c'è qua tanta roba non sono gnocchi non so non vi preoccupate questi non sono gnocchi c'è scritto gnocchi ma sono patate piccoline ecco non sono gli occhi no 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 poi ho comprato una ricotta poi e tonno dovrebbero essere ce n'è due intanto vabbè ve ne faccio vedere uno solito tonno poi ho preso olio di oliva extravergine lo so che venirebbe bere quello però me non piace troppo forte poi ho comprato il pollo che sono quelle fette sottili pollo 250 poi ho preso una verza una verza del prezzo di un euro e 50 perché adesso dovrebbero anche costare poco ok poi ho preso pane 1 2 3 4 che sono l'arabo l'amore ho detto arabo non ho detto l'apu cioè no 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 e pane amore ecco quattro pezzi di pane poi adesso qua è complicato e se vede questi vabbè questi eccolo lì eccolo lì i pedri che ne diamo uno si dà tanto che vediamo capitato può farlo con la mano perché già uno glielo dato prima vieni qua però che saluti tutti su 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 ciao poi fin qua ci siamo arrivati allora poi ho preso una marmellata fragole non ho preso quella zero perché ce l'ho c'ho quella i mirtilli ce l'ho però non mi piace poi ho preso una uno di cipolle ma dovrebbe essercene un altro poi ho preso uno scotte scasa uno scotte scasa ok poi per il toto tipo scilla e tanto di voi che lo fate il toto funghi perché la scilla c'è il singhiozzo mi era andata in depressione perché non prendevo più i funghi allora ecco qua sì c'è il cesso perché le cipolle cinque di funghi ma l'ho presi perché sono in super offerta costano tipo 70 centesimi credo a scatolina perciò ne ho presi cinque perché sono in offerta mi sposto perché qua poi ho preso uno di mille alta digeribilità poi mamma mia qua poi ho preso questo qua che è il sì sovracosce e sovracosce di pollo poi c'era una latina di tiramo di birra di coca cola io strangolo mio figlio voi sappiate che io lo strangolo c'era una latina di coca cola prima è venuto qua a bersi il caffè ha spostato la spesa non vedendo la latina la latina è caduta che mo è vuota ed è andata ma vi faccio vedere dove è andata ecco qua ecco qua dove è andata la sorbita al rotolone che praticamente è mezzo da buttare via la sorbita al rotolone bene 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 sono contenta acqua se quando hanno portato qua vedete l'orbiato resto da 100 perché di spesa faccia la dentro il resto di soldi ho speso lui cazzo è lo speso 91 euro e 32 e mandato il resto dice poi ho preso qua acqua cedito la mortadella che la voglio fare cotta perciò ho preso due sette di mortadella vedete solo quella 580 perché la voglio fare tipo bistecca da mortadella poi aspettate qua ho preso un ricordo vediamo cosa c'è ok ho preso lo spezzatino misto e la lonza a fette dopo devo prendere fra tutti i sacchettini perché poi ho preso uno e due due sacchi di patate che erano in offerta erano perciò ne approfittate ne ho preso due sacchi mamma mia che patata enorme la che patatona ma c'è pure il coso qua non è che sotto ecco perché sono in offerta quando mettono in offerta le cose sei sicuro che c'hanno qualcosa che non vanno sono gli scarti perché ste patate non mi sembra andare bene dopo vedremo dopo vedremo vabbè comunque due di patate poi acqua c'è l'altro di tonno perché ne ho presi due ok poi c'è la carta igienica regina ok poi due due di trentingrana che anche questo era in offerta ma mi sembra che due ne ho presi mi sembra ecco vedi che ce n'è un altro qua perché mi sembrava di averne presi tre ne ho presi tre perché sono in offerta un euro e venti sono in offerta preso tre trentingrana poi quello l'ho fatto vedere quello ha dopo preso una confezione di fanta e per ultima ma non per ultima vi faccio vedere cosa ho preso perché allora vediamo qua ho preso queste queste qua ho preso non so che ma del monte l'ananas gold a pezzi in succo sapore dell'ace dell'acero cos'è che c'è scritto qua non ci leggo a pezzi in sapore dolce intenso sì io sinceramente l'avevo ordinate al naturale però queste sono tutte tranne che al naturale in pezzi addirittura mai viste ma ecco perché sinceramente non so che frutta mangiare ma non ci sono più i meloni non ci sono più le angurie se ci sono ma costano un occhio fanno cagare e allora mi sono detta cosa prendo l'ananas ma avete detto mangia l'ananas che fa anche bene ecco però se prendo l'ananas intero sinceramente è troppo acido non mi piace poi è difficile trovarlo anche buono è un ananas perciò mi avete detto di comprare che c'è anche quello no è stata scilla a dirmi di comprare che c'è anche quello al naturale io sinceramente nella spesa avevo ordinato quello al naturale però è ma non è quello che lo faccio anche vedere perché qua c'è la mia spesa che ho ordinato che è bagnata di e bagnato di coca cola pure questo vediamo dove ha ordinato budini non ci sarebbe ordinato anche i budini ma non ci sono allora le ananas deve ordinato il naturale ma queste non sono al naturale vediamo qua se trovo dove l'avevo ordinato e scato 2 ma eccola qua allora come vedete allora si vedete qua e dove ordino la spesa perché io gli mando gli mando gli mando l'email capito e vedete che io avevo ordinato due confezioni per tre scatole ananas al naturale del monte o altra marca ok e qua c'è altro all'altra spesa che ho ordinato e al naturale io l'avevo ordinate però mi hanno portato queste che non sono al naturale vediamo quanto zucchero perché magari sono pieni di zucchero ho capito quello è allora vediamo qua quanto è allora 100 grammi di prodotto c'ha 66 calorie acidi grassi 0 0 ma vabbè dai zuccheri qua non ce ne sono vitamina c ma forse sono sono forse al naturale cont contenente ingredienti ananas del monte succo ananas ama allora sono sì sono giusti no no va bene così allora perché vedete che c'è dentro pezzi di ananas ananas del monte gold succo ananas del monte e basta certo praticamente qua dentro c'è l'ananas il succo dell'ananas ok perfetto perfetto ma voglio vedere se mi costano un rene perché sono curioso di vedere quanto costano dov'è che ho messo lo scontrino che andiamo a vedere quanto costano ce l'avevo in mano ecco qua giovanni ah vabbè ti sei sdraiato no e volevo dirti che prima bevendo il caffè spostato in quale spesa c'era la lattina di coca cola che si è versata ed è stata prosciugata dallo scottis casa perciò c'è il rotto di scottis casa da buttar via allora ananas eccola qua allora l'ananas guardate qua costa 3 euro e 49 minchia carissima 3 euro e 49 di due cioè tantissimo vabbè fatemi sapere voi perché ho la prima volta che la compro capito non non so i prezzi non so se è giusto quel prezzo lì se troppo caro fatemi sapere voi niente questa è tutta la mia spesa che ho comprato e che vi devo dire niente io spero che questo video spesa fatto un po strampalato così vi sia piaciuto ditemi se lo preferite così o se lo preferite quando mi faccio vedere ditemi voi oggi è andata così vi mando un bacio se lo mettete un like iscrivetevi tutto qua la posta rimesso lì non c'è papà no non c'è papà umore volevo solo farti salutare niente papà vada ciao a tutti